Collezionisti e collezioniste benvenuti su Lele King TV Si continua ragazzi con il cello mi manca di tutto quel bel mazzone di figurine che avete visto nel primo video in cui ho ripreso questo album quello normale, quello non con la copertina rigida, ma con la copertina normale Abbiamo tante figurine da attaccare, in questo video vedremo Inter, Juventus e Lazio sicuro Adesso poi non so se andremo ancora avanti Comunque queste tre squadre le vedremo sicuro, quindi mi raccomando Restate collegati fino all'ultimo, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like Mi raccomando è gratuito iscriversi al canale Non fate i tirchi con questo tasto iscriviti perché è completamente gratuito, non costa niente Quindi se volete potete iscrivervi al canale e attivare la campanella così non vi perdete i prossimi video Visto che ancora il 70% di voi guarda i miei video ma non è iscritto al canale Detto questo ragazzi seguitemi anche su Instagram e su TikTok dove sto postando delle cose molto molto interessanti Allora detto questo ragazzi, iniziamo con l'Inter Devo dire che pensavo che stavamo messi peggio con l'Inter, invece stavamo messi abbastanza bene Iniziamo la prima figurina che è lo stemma dell'Inter, eccolo qui Che ci manca Quindi andiamo subito ad attaccare qua sopra Inter che è il campione in carica dello scuetto dell'anno scorso Poi abbiamo la 190 che è Scrignar che ce l'abbiamo 192 è Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter in questa stagione, ex allenatore della Lazio E anche ex giocatore della Lazio Poi abbiamo la 194 che ci manca che è la formazione dell'Inter 196 è De Vrai, un altro ex Lazio E ce l'abbiamo Ranocchia Eccolo Ce l'abbiamo anche Ranocchia 198 di Marco, invece ci manca Poi 199 è Nicolò Barella Eccolo Ex giocatore del Cagliari Andiamo qui Nicolò Barella Poi abbiamo la 201 Dove c'è Cialanoglu Che ce l'abbiamo La 203 Dumfries Ci manca Giocatore olandese La 204 Gagliardini Perisic ce l'abbiamo La maglia dell'Inter La maglia dell'Inter con il 206 ci manca La 208 Vesino ce l'abbiamo Correa con il 210 ce l'abbiamo Lautaro Martinez con il 212 ci manca Andiamo alla Juventus Dove iniziamo il 215 che è Mattia Perin Mattia Perin lo andiamo subito a sistemare qui Eccolo Poi abbiamo la 217 invece ce l'abbiamo che è Alex Sandro Poi abbiamo Max Allegri 218 Che è tornato ad allenare la Juventus proprio in questa stagione Stagione fra alti e bassi per la Juventus e per Allegri Poi abbiamo la 219 che è Leonardo Bonucci Poi abbiamo la 220 Che è la formazione della Juventus 221 De Sciglio Che ce l'abbiamo Poi abbiamo la 224 Delict ci manca 227 Arthur ci manca anche questa Giriamo pagina E abbiamo Kuluseschi che ce l'abbiamo che poi neanche più della Juventus Poi ce l'abbiamo la 233 Manuel Locatelli Eccolo qui ex giocatore del Milan e del Sassuolo Giocatore che ha debuttato con il Milan E che poi adesso con il passaggio alla Juventus Ha detto che ha sempre difato Juventus Il suo sogno era giocare nella Juventus Poi abbiamo la 237 che è Kinn Eccolo qui Per lui ritorno alla Juventus Dopo la sua parentesi all'estero Tra cui Everton e Paris Saint Germain Vediamo un po' se ho sbagliato Sì Everton e Paris Saint Germain Ok andiamo dagli sbiatiti Ecco qui la pagina più sbiatita dell'album 242 Qua sbrigamosi prima di via l'Urticaria 243 Marusic La formazione ci manca Poi 248 Lazzari 251 Zaccagni 252 scusate 251 254 Luis Alberto 255 Abbiamo trovato anche il pigiama Che ce l'abbiamo Ok togliamo il pigiama E andiamo alla 262 Che è Felipe Anderson Anche per lui Un ritorno Alla Lazio Dopo che È stato via È stato al Monaco Se non sbaglio Felipe Anderson No West M West M West M è Porto l'anno scorso Non so perché mi ricordavo Monaco Monaco Sa Keita Mi sto sbagliando con Keita E Mori qui Eccolo qui Doppione Ok ragazzi Per oggi abbiamo finito Con il cielo mi manca Non perdetevi il prossimo Perché il prossimo sarà Milan Napoli E Roma Ok Milan Napoli Roma Nel prossimo Ce l'ho Mi manca Quindi mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Attivate la campanella Per non perdervi i prossimi video Stiamo cercando di andare avanti Anche con questo secondo Album Che era partito per prima Di fronte a quell'altro Però che adesso è rimasto indietro E cerchiamo di recuperare Io tanto vi saluto Ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti